Ragazzi, oggi è ufficialmente uno dei giorni più tristi della mia vita E non riesco a tenere Mi la mette nella gripe perché E il 6 di Usai non è più un giocatore del Napoli ragazzi Ha fatto un post Scusate, scusate un attimo Ha fatto un post davvero commovente Degno dei Degno dei migliori Dei migliori Fenomeni Che hanno vestito questa maglia E ci lascia Ci lascia così Con questo suo ricordo Con un unico gol che ha mai fatto nella sua carriera Con tantissime giocate sublimi Tantissimi tocchi di classe Tutti quei sombreri Tutti quelle sgaloppate sulla fascia Gli assist al bacio Un giocatore di una tecnica impressionante Che ora se ne va E io devo piangere perché E oggi è un giorno triste per tutti i tifosi del Napoli Che perdiamo un grande fenomeno Tra l'altro De Laurenti sei una merda perché lo perde a zero Scusate, scusate, scusate Lo sapevamo già che se ne andava a zero Ma con questo post che ha fatto Mi ha fatto veramente commuovere E niente Ditemi cosa ne pensate Condividete il nostro dolore Qui sotto nei commenti Perché veramente io Non so se potrò continuare questo video È molto dura Ora vado in bagno A piangere Voi Voi piangete poco Lo so È un momento difficile Lo so Lo so Lo so Ma dobbiamo essere forti Arriverà qualcuno più Mi ha toccato la miseria Mi so E non te ne andai No